Sono sempre stato convinto che gli esseri umani debbano migliorarsi. Qui a The Circle possiamo esprimere tutto il nostro potenziale. Usando al massimo le nostre capacità, non esistono problemi che non riusciamo a risolvere. Le possibilità sono infinite. La sua transazione era di 78,13 e il suo conto era di 78,31. Grazie. Ti hanno assunto a The Circle! Ciao, ciao, May. Come stai? Jared, sarai il tuo tutor. Quando ho iniziato, c'ho messo settimane per capire. Credimi, vai alla grande. May è con noi solo da pochi mesi. Ma ha fatto subito grandi cose. Allora, May, pensi che il tuo comportamento sia cambiato, sapendo di essere osservata? Abbiamo sempre amato viaggiare, abbiamo visto un sacco di cose e ora la nostra realtà è filtrata da tutto questo. Ciò che è registrato viene conservato e analizzato qui. Possono usarlo come meglio credono, hanno in mano la nostra vita. Non immagini di cosa sono capaci queste persone. Perché conoscere è un bene. Fermatela! Ma sapere tutto è meglio. Allora, May, c'è qualcosa che ci vuoi dire? Allora, May, c'è qualcosa che ci vuoi dire?